Colle Pino è un piccolo paese a 5 chilometri di Aspello dove fu eretto un castello fortificato a difesa delle strade che circondano il monte Subasio. Le vestigia dell'antico monastero dedicato a San Silvestro si trovano oltre il paese laddove la strada sale e porta la quota di 751 metri di altezza su cui si staglia la chiesa romanica praticamente quanto rimane del cenobbio fondato da San Romualdo nel 1025. Fu un complesso di notevole importanza al suo tempo in cui trovarono rifugio cardinali e pontefici ma che fu soppresso da Papa Paolo III nel 1535. Oggi i locali del convento sono occupati da una comunità di monache le quali autorizzano a visitare la chiesa. La parte più interessante dell'edificio religioso è senz'altro la cripta la cui volta è sostenuta da tre pilastri con notevoli capitelli ricavati da altre costruzioni antiche. Anche un altare della chiesa è ricavato da un sarcofago di età romana. Da Colle Pino poi una strada in salita e tutta a curve conduce al santuario della Madonna della Spella a 978 metri d'altitudine nel verde paesaggio quasi intatto del parco naturale regionale.